Buongiorno e bentrovati a Mattino 7. La nostra rassegna stampa inizia subito con i giornali regionali, le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, alle mie spalle già vedete la prima del centro nella edizione di Pescara, allora andiamo a vedere il titolo di apertura, sconti al mare per chi va in treno, Pescara a prezzi ridotti negli stabilimenti esibendo il biglietto, il via dell'iniziativa da questa estate. E poi restiamo in tema di vacanze, sconti, scusate, pronti i permessi sulla costa, sia i giochi, no ai cani, già decisi in Abruzzo i divieti dell'estate. Cambiamo argomento, l'attentato di Berlino aiutarono il killer di Fabrizia, presi cinque terroristi. E poi andiamo a centropagina nella fotonotizia, la disperazione del tecnico del Pescara Massimo Epifani, calcio biancazzurri ribaltati dal Brescia, Pescara ancora a picco, Epifani verso l'addio. Tra poco andremo a vedere anche il servizio della partita giocata ieri sera. Nelle cronache svolta nella inchiesta, la Cassazione Vaccaro, l'arresto è stato un errore. Ivan Vaccaro non poteva essere arrestato, invece è stato costretto a passare 27 giorni ai domiciliari dal 3 al 30 di gennaio scorso con l'onta di una accusa per stalking. Lo dice la Corte di Cassazione che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare applicata all'imprenditore della Movida dal GIP del Tribunale di Pescara. Proseguiamo. Il braccialetto non c'è e il detenuto resta in cella. Dovrebbe stare ai domiciliari con il braccialetto elettronico come disposto dal giudice. Invece in carcere in attesa di ricevere il braccialetto al momento non disponibile. Senza questo apparecchio non può lasciare il carcere di Sandonato. Per protesta il detenuto ha cominciato lo sciopero della fame. Andiamo a Montesilvano adesso. Tassa rifiuti, sconti solo per i ristoratori. E ancora centri vacanze, 400 posti di lavoro. Il 13 aprile si svolgeranno le selezioni a Pescara, impieghi a Roccaraso ma anche all'estero. E poi da leggere di spalla, itinerari d'Abruzzo sul Turchio dal Passo del Diavolo. Il Monte Turchio è una bella montagna ai margini del Parco Nazionale d'Abruzzo, salendo a Pescasseroli dal Fucino. Lo si costeggia fino ad arrivare al Rifugio del Diavolo, da dove parte una stupenda e imperdibile escursione. E poi ad Atri, in mostra At, la moneta preromana. Un esemplare originale dell'antica moneta preromana che veniva realizzata ad Atri, chiamata At, sarà esposta da domani al pubblico nel teatro di Atri. Nel taglio basso, come sempre, il Buongiorno Bruzzo di Giuliano Di Tanna. Vuoi il successo? Cerca di nascere ricco. Questa è la prima pagina del centro nell'edizione di Pescara. Tra poco andremo a vedere anche le altre edizioni, le altre pagine regionali. Intanto andiamo alla partita di ieri sera del Pescara, la sconfitta contro il Brescia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti e poi le impressioni nel dopogara del tecnico del Pescara, Epifani. Sarà una Pasqua amarissima e di passione per il Pescara, che crolla anche a Brescia, perdendo la quattordicesima gara della stagione, ma soprattutto uno spareggio salvezza importantissimo con il Brescia, che con tutti i suoi problemi ha sovrastato, soprattutto nella ripresa. Un Delfino ancora largamente insufficiente. Situazione che si fa delicatissima in casa abruzzese, con il tecnico Epifani, che ha raccolto appena un punto nella sua gestione di cinque gare. Cambia ancora formazione Epifani, riproponendo in difesa Gravion a centrocampo Valzania, mentre in attacco, al fianco di Mancuso, c'è Bunino. La gara del Rigamonti vede il Brescia fare la partita con il Pescara, che però al ventiquattresimo approfitta di una clamorosa scivolata in area di Somma, permettendo a Bunino di crossare a centro area per Coulibaly, che praticamente a porta vuota mette alle spalle dell'incolpevole Minelli. Il vantaggio permette alla formazione bianca-azzura di amministrare un po' la gara per qualche minuto, ma solo. Purtroppo fino al trentunesimo, quando Torregrossa in area pescarese fa tutto bene controllando la sfera e poi girando in porta con Fiorillo costretto a raccogliere il pallone nel sacco. Tutto da rifare per i ragazzi di Epifani, che però non si chiudono e anzi ribattono colpo sul colpo, rischiando però al quarantaquattresimo, quando Torregrossa da buona posizione impegna a terra Fiorillo che para. Il Delfino chiude il primo tempo in avanti, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Al quarto d'ora è proprio il mio entrato Spalek a chiamare Fiorillo ad una parata difficoltosa in calcio d'angolo. La pressione dei Lombardi è ad intermittenza con Boscaglia che manda in campo anche Curcio per Longhi. I bianca-azzurri tengono botta, non riuscendo però a pungere e subendo la stradipante forza dei Lombardi, che alla ventunesimo arrivano ad un passo dal raddoppio con Fiorillo che dice no a Caracciolo, salvando la sua porta però solo per qualche attimo, visto che poco dopo è l'airone di testa a saltare quasi indisturbato mettendo il pallone in rete per il 2-1 Bresciano. Il Pescara vede le streghe entrano in capo, Cocco e Carraro, ma le cose non cambiano però con la formazione adriatica che rischia di crollare, si salva prima al ventottesimo con Fiorillo che dice no a Curcio su punizione, poi alla mezz'ora con il portiere pescarese che dice no questa volta a Torregrossa. Il portiere bianca-azzurro con le sue parate tiene in partita gli abruzzesi che dopo aver rischiato il tracollo cercano di respirare la squadra del presidente Sebastiani, frastornata, va ancora in partita grazie ai colossali errori sotto rete dei padroni di casa. Nell'ultimo spicchio di partita con Baez al posto di Valzania prova il tutto per tutto, sfiorando con Cocco al 94esimo il gol del 2-2, ma il giocatore sardo in area bresciana non inquadra lo specchio della porta e l'immagine del Pescara di oggi, fragile e quasi impotente di fronte agli avversari. Questa squadra ha perso sicurezza nelle ultime partite, lo aveva già fatto anche durante la gestione Zeman, come se ne può uscire considerando anche un calendario che non è amico, sabato c'è il Palermo, poi c'è il Bari. Tu hai detto che il problema non è Epifani, il problema è questa squadra che non riesce ad imporsi sul piano del gioco anche al cospetto di avversari che sarebbero alla sua portata. Come secondo te si può uscire da questa situazione? Dando di più, cercando di avere più coraggio che in questo momento manca, di essere attenti sulle palle, quando ci si difende stare attenti alle palle dove non devi prendere gol, perché se regali magari qualche situazione agli avversari, in questo momento che mentalmente sei un pochettino fragile, decade tutto. Se ne esce lavorando, cercando di tenere testa alta, anche se veniamo da un momento negativo. Però che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare, nel calcio si lavora e cercare di tirarsi fuori il prima possibile. Ai tifosi cosa ti senti di dire? Perché a fine partita questi tifosi che stasera erano a Brescia hanno chiamato la squadra, però sono oggettivamente ed obiettivamente sconcertati anche un po' i tifosi. Ai tifosi li possiamo solo ringraziare noi. In questo momento siamo in grosso debito con loro, perché i risultati dicono questo, sotto l'aspetto dell'impegno ragazzi non gli posso dire niente, sotto l'aspetto dei risultati siamo in grosso debito con i tifosi e quindi ci sentiamo in difetto con loro e questo ci deve aiutare a tirar fuori quel qualcosa in più che in questo momento questa squadra manca. Andiamo avanti con la nostra rassegna, torniamo sul quotidiano Il Centro, quella che vedete è la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura caccia al sospetto terrorista dell'Isis ha vissuto ad Avezzano, presi a Roma i complici del killer della sulmonese Di Lorenzo. nel taglio alto l'Abruzzo scia nell'Aquilano campo imperatore finalmente si parte con 5 metri di neve e poi pronti permessi sulla costa, abbiamo già visto sia i giochi no ai cani. Ancora andiamo nelle cronache, il comune dell'Aquila ha ricorso sul voto al vaglio le schede del Torrione, oggi riprende il riconteggio delle schede dopo il ricorso elettorale delle opposizioni di centro-sinistra rispetto alle comunali dell'Aquila. Nella giornata odierna saranno esaminate le schede della sezione del Torrione, il ricalcolo delle schede è fatto da un funzionario della prefettura che poi riferirà l'esito ai giudici del Tar. Ancora l'Aquila via alle azioni legali, recupero tasse, lolli manifesteremo a Roma, sindaci, parlamentari e associazioni di categorie contro la restituzione delle tasse. Il territorio si mobilita dopo l'invio delle richieste di autocertificazione da parte del commissario Calabro alle imprese aquilane. Decine di lettere che abbracciano una fascia ben più larga delle 126 aziende indicate inizialmente. La Covcommercio di Avezzano, Donatelli, sosta di cortesia e sabato noi parcometri. Andiamo a centropagina adesso. Pacefatta salva la processione a Castelvecchio su Becco, il frate di missionario sostituito dall'ex parroco. E poi nella fotonotizia la serie D di Curzio fa volare l'Avezzano e invece cade l'Aquila. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'edizione terramana. Nell'apertura alla politica e le elezioni comunali, il PD riprova con il rettore Pressing Sudamico per fargli accettare la candidatura al sindaco di Teramo. Nelle cronache Giulianova Canzanese cambia idea e ridiventa assessore. Nuovo colpo di scena nella traballante amministrazione comunale di Giulianova dopo essersi dimesse ad aver lasciato il PD. Cristina Canzanese ci ripensa e accetta l'invito del sindaco a tornare in giunta. Mastromauro l'ha quindi rinominata assessore perché le dimissioni non potevano più essere revocate. A Roseto, residence per anziani a Villa Clemente e ancora Alba Adriatica torna il posto di polizia per la stagione estiva. Altra notizia di cronaca, sventato il furto di una ruspa a Corropoli, i radri volevano forse usarla per abbattere un self-service. A centro pagina, nella fotografia, Teramo affidata alla gestione a una cooperativa migranti, 3 milioni per il centro di accoglienza. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, nella edizione di Chieti Lanciano Vasto. Vaccaro non andava arrestato, la Cassazione annulla l'ordinanza cautelare contro l'imprenditore della Movida e il titolo di apertura. Nelle cronache, andiamo a Lanciano, il procuratore di Serio, mai crimini così violenti, raddoppiamo i controlli, ma in questi territori si sono verificati fatti così atroci come la tortura subita dal negoziante rapinato a San Vito. Mai tanti crimini così violenti, a distanza di pochi giorni, se non di ore. Il procuratore di Lanciano commenta con preoccupazione i giorni di terrore che la città e il comprensorio frentano stanno vivendo. Diamo a Chieti ora. Di primio annuncia via agli sconti sulla Tari. Ieri è saltato per mancanza del numero legale il Consiglio Comunale sulla Tari. La seduta, dopo la sentenza del Tari che ha annullato gli aumenti del 2017, è stata rinviata a domani alle ore 8.30. 5 Stelle e PD vanno all'attacco, la maggioranza non ha più i numeri, che il sindaco annuncia sconti per le famiglie con sgravi del 6% sulle bollette. Torniamo a Lanciano. Sia la tassa di soggiorno, i soldi vanno al turismo. Ancora maltratta la suocera e la cognata. Botte, cibo razionato e bagno vietato. Chietino allontanato da casa. Agissi, paura nel centro storico. Ladro in casa davanti agli occhi degli operai. Adesso passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Perde la bambina per le botte. Stuprata dai carcellieri e dagli scafisti, costretta a prostituirsi, malmenata dalla madre a Pescara. È la fine tragica di una vicenda iniziata con il trasporto della bimba con un volo militare al Gaslini. Poi andiamo nel taglio alto e troviamo invece il Pescara. Pescara cappò a Brescia. Traballa il mister Epifani. Coulibaly aveva portato in vantaggio il Delfino. L'abbiamo visto. Poi la resa. Sebastiani riflette sul da farsi. Ancora per la Serie C. Il Teramo non cambia per Gubbio. Per la Serie D. Vincono Pineto, Vastese ed Avezzano. Ma torniamo alle notizie di cronaca. Via la raccolta firme contro la sanità lumaca. Ecco qui il trafiletto di prima pagina. Più di 200 giorni di attesa per una risonanza. 300 per una mammografia. Sono alcuni dei dati sulle liste di attesa. E poi a centropagina. A Fontari l'inaugurazione a fine stagione. Campo Imperatore in funzione. Finalmente aggiungiamo noi la seggiovia. Che fa partire così la stagione sciistica. Nel taglio basso. Pescara. Pista ciclabile su Viale Pindaro. Ieri l'inaugurazione della pista ciclabile a Pescara. E poi di spalla. L'occupazione è per uomini. E migliora a piccoli passi. Il focus sui dati dell'occupazione. Lo studio annuale del Cresa dimostra un lieve miglioramento. Le donne escluse da questo trend. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie. Avezzano fuggito marocchino. Sospettato di aver fatto parte della Gihad. E poi il caso. Causa in regione. Massacese vince il ricorso contro Rivera. A Teramo la rabbia dei terremotati. Inagibilità per fare affari. I consumatori denunciano un business illegale per l'indotto edilizio. Ancora una festività fuori casa per 4.000 persone colpite dal terremoto. Andiamo sulla città. Adesso il quotidiano della provincia di Teramo. Massacravano gli anziani genitori. Anziani picchiati con pentole, scope, insultati, minacciati di morte e ripuliti dei soldi. della pensione. Questo è il titolo di apertura. Centropagina la fotonotizia. Volvo Mano. L'ANAS ne denuncia la scomparsa di una decina. Ladri di cartelli. Nel taglio alto del giornale. Teramo appello per le primarie della sinistra. Renz di Sabatini. Il rettore. Una risorsa per tutta la città. Teramo al voto. Il blocco civico si ricompatta nella sede di Rudi di Stefano. E ancora la crisi a Giulianova. Rientro in giunta sorpresa per l'assessore canzanese. Sotto la fotografia girava con una targa del ministero. Santomero la municipale indaga sul proprietario dell'autovettura. Per quanto riguarda il mondo televisivo. Teleponte. Ok. Al concordato preventivo che evita il fallimento. E poi nel taglio basso i controlli. Blitz del NAS nei depositi di Mangimi. Con 200 tonnellate sequestrate. E poi professione giornalista. Call of Duty. Tutte le battaglie del soldato. Red Daniels. Lasciamo le prime pagine regionali. Adesso rapidamente andiamo a vedere i titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura Berlusconi. Ora riabilitatemi. Politica di Maio Frena sul centrodestra. Inchiesta Expo a Milano. Prosciolto e Sindaco Sala. La richiesta ai giudici per rientrare in gioco. La parte di Berlusconi. Casellati i veti. Sono un errore. Così il Presidente del Senato. E poi il caso dei dati privati. Facebook e la mamma al volante. E il fondo di Danilo Taino. Andiamo ancora avanti. Sulla Repubblica. Il titolo di apertura. Camere. Movimento 5 Stelle. Acchiappa tutto. Il patto grillini. Centrodestra esclude il PD dagli inchiarichi chiave. Ora pressing sulle nomine. Di Maio. Convergenza a sinistra. I dubbi di Franceschini. Ma resiste. La linea d'opposizione. Tracciata dal segretario di missionario Matteo Renzi. E poi a centropagina. L'allarme terrorismo. La cellula di Amri voleva colpire la metropolitana di Roma. Con le operazioni che proseguono anche in questa mattina. E poi la stampa. Intesa col PD. Intesa col PD. Il piano B dei grillini. Programma in 5 punti. Un altro candidato premier. Franceschini sfida Renzi. Sì al dialogo. La partita scacchi verso il governo. I 5 Stelle pronti a una legge sul conflitto di interessi. Anti Berlusconi. A centropagina. Nella fotografia. Olimpiadi. Il sogno unisce Milano e Torino. La mossa del CONI. La coppia di città per i giochi invernali del 2026. Andiamo sul sole 24 ore adesso. Il titolo di apertura. Premi e welfare. Nuovo fisco. Sconti più facili sugli incentivi alla produttività. Le regole per auto e polizze. Una circolare delle entrate. Fa il punto sulla tassazione dei bonus per i risultati e dei servizi per i dipendenti. Ancora il caso Datagate. Impicchiata all'indice della fiducia nei big di internet. Scendiamo ancora. Rottamazione. In arrivo 300 mila lettere. Negli inviti. Il conto degli importi dovuti per la sanatoria. Domande entro il 15 di maggio. Andiamo sul Fatto Quotidiano. In apertura le trattative. Movimento 5 Stelle. Vede Lega e Forza Italia. Il PD di Serta. Rivolta anti Renzi. Basta Ventino. Vogliamo giocare. Franceschini e Orlando contro l'isolamento. Camera. Accordo destra. 5 Stelle per gli uffici di presidenza. E poi ancora il caso Consip. La soffiata sull'inchiesta nell'agosto 2016. A Largo Chigi. Il confronto. Marroni accusa Lotti. Che ammette l'incontro. Ma nega rivelazioni. Andiamo sul manifesto. Il quotidiano comunista. Il titolo tradizionale sulla fotografia. L'uomo di Pasqua. Il PD rompe il muro del silenzio. Franceschini sbotta e scende dall'Aventino. Discutere la linea politica prima di salire al colle. Orlando l'appoggia. Ma i renziani fanno muro. Se qualcuno vuole il governo con i 5 Stelle. Esca allo scoperto. L'ex segretario detta ancora gli ordini. Guerra di posizione tra Di Maio e Salvini. I 5 Stelle. Blindano le camere per i vitalizi. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Tempo. L'arbitro va a processo. Il titolo clamoroso. Il fischietto Giacomelli in tribunale per il rigore negato alla Lazio col Torino. La causa per risarcimento danni intentata dai tifosi. E ora le giacchette nere tremano. Poi c'è questa intervista esclusiva. Barcellona, Juve, video shock e Cina. Nainggolan racconta tutto. Scendiamo ancora. La mossa disperata di Zingaretti. In offerta le poltronissime nei CDA. Libero ora. Retata di musulmani violenti. Scoprono solo ora che siamo pieni di bastardi. Terroristi. Arrestati nel Lazio. Cinque complici dell'attentatore che falciò la folla con un tir a Berlino. Si nascondevano nelle case occupate. Il piano ISIS per gli italiani. Tagliamogli testa e genitali. Andiamo ancora avanti. La verità ora. Presi i complici di Ayni Samri. Così importiamo terroristi. Per il terzo giorno di fila. Scoperto una rete islamica che preparava attentati. Minniti che in campagna elettorale ha nascosto il problema. Ora ci dice che il rischio è altissimo. Dobbiamo continuare sulla sua linea. Bisogna fare il contrario. Secondo la verità. Andiamo sul secolo d'Italia. Il titolo è abbastanza eloquente. Siamo in guerra. Nel taglio basso il primo piano. Berlusconi avvisa Di Maio. Ora devi trattare con me. Caosi in regione Lazio. Zingaretti e senza numeri. E poi scuole piene di immigrati. Tanti senza cittadinanza. Ora il quotidiano cattolico avvenire. A carte scoperte. Il titolo che apre il giornale. Consultazioni da mercoledì. Solo ascolto dei partiti. Di Maio muove 10 punti per un patto di governo. Il presidente Mattarella avvierà le esplorazioni. Completate le vicepresidenze alla Camera. Strada spianata per abolire i vitalizi. E poi il Papa servono sguardo nuovo e vicinanza. Prima la messa a Crismale. Poi la lavanda dei piedi nel carcere di Regina Celi. Andiamo sul secolo XIX. Il titolo di apertura. Prima esponde nel PD a Movimento 5 Stelle. Franceschino e Orlando aprono al dialogo. Spunte il piano B dei grillini. Renzi ribadisce intanto il Noi 5 Stelle. Che però studiano un'intesa in 5 punti. E poi a centropagina c'è l'inchiesta. Così l'industria locale affronta la rivoluzione. Liguria dal lavoro. Con l'incubo dei robot. Così il quotidiano genovese. Invece ci spostiamo a sud con il mattino di Napoli. In apertura abbiamo la politica nazionale. La sfida di Di Maio agita il PD. Abbiamo visto le trattative. Per lo meno che un gruppo del Partito Democratico. Vorrebbe portare avanti con i 5 Stelle. E poi a Napoli e Caserta i falsari del terrore. Arrestati i fiancheggiatori dell'attentatore di Berlino. Per quanto riguarda le interviste del mattino. In Italia 50 foreign fighters. Riflettori puntati sul web. L'appello del procuratore Caffiero Derao. Andiamo a vedere adesso i titoli. Dei principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. che dà un ampio spazio al ricordo di Mondonico. Ciao Mondo. Emiliano Mondonico è morto a 71 anni dopo una lunga lotta contro la malattia. Era un allenatore artigiano che col calcio all'italiana lanciò in Europa Atalanta e Torino. Questo è il ricordo di Mondonico in alto alle sedie. Ricordando il gesto plateale di Mondonico. Andiamo ancora avanti. L'uomo della rinascita Milan. Ringio Ring. Rinnovo con vista Champions. Giorni caldi per Gattuso. Atteso da Juve Derby. Lui però a Torino si esaltava da giocatore. I cugini li ha eliminati in Coppa. Andiamo alle altre notizie. Il rugito di Suning. L'Inter non mogliamo. L'euro carica del Becca è galante. Ancora il CONI scrive al CIO. Interessati all'impiede del 2026 sulla Milano-Torino. Vi svegliamo dove si potrà gareggiare. Andiamo a vedere anche il titolo sulla B. Allungano le tre big. Colpo del Parma. Super Gilardino. In B. Empoli. Frosinone. E Palermo. Ok. Andiamo sul Corriere dello Sport. Allora, Lippi sposa la Juve Max. Questo è l'invito ad Allegri. Mentre per quanto riguarda il Milan. Milan segno io. Cutrone. Lo Stadium non mi fa paura. A Buffon ho già segnato in nazionale. C'è chiaramente il ricordo di Mondonico. Addio mondo. Grinta tecnica e ironia. Nel taglio basso troviamo il Napoli. Sarri ha deciso. Avanti con gli stessi fino allo scudetto. L'Inter. Rilancio di Zhang Junior. Noi non mogliamo obiettivo Champions. E poi per la Serie B. Palermo colpo a Chiavari. Longo rimonta e batte in saghi. Il Frosinone mantiene il secondo posto. Foggia può sognare. Andiamo a vedere anche il titolo di Tutto Sport. Amici miei. Atto primo sul confronto fra Milan e Juventus. Poi Cialanoglu esclusivo. Juve ti battiamo così. E il ricordo di Emiliano Mondonico. Ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo a vedere però prima le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dall'Abruzzo. Aprendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Sul messaggero nella pagina appunto regionale. Le emergenze d'Abruzzo. Una raccolta firme contro la sanità lumaca. Svelate le liste d'attesa. Vanno da 200 giorni per una risonanza. 300 per una mammografia. I sindacati vanno investiti 4-5 milioni. Entro la fine della legislatura. Sarà il caos. Andiamo ad ascoltare il servizio di Andrea Costantini. Giovanni Notaro della Cisla Abruzzo e Molise. Oggi questo incontro per annunciare una petizione popolare. Una raccolta firme. Obiettivo 20.000 firme da consegnare alla regione. Chiedete un salto di qualità. In particolare sul fronte della gestione della lunghezza delle liste d'attesa. Dell'abolizione del super ticket. Il problema delle lungaggini è anche coperto dal fatto che magari non viene detto che c'è carenza di personale in alcune strutture. Magari questo è frutto del passato, del piano di rientro. Però oggi bisogna capire che se non si interviene in quella materia con la sanità privata che è attrezzata e quella intermediata che va a trovare le forme migliori non solo in regione ma fuori regione, rischia di creare un ulteriore danno erariale e quindi non trovare più risorse economiche per coprire alcuni buchi e magari mettere le figure chiave a fare prestazioni. C'è il problema di non introitare risorse perché chiaramente altre regioni sono più attrezzate. Quindi mobilità passiva ma con quali conseguenze? Non certamente per chi può permettersi la sanità privata e quell'intermediata ma soprattutto per le fasce debole della popolazione a cui si aggiunge o un disagio economico perché si devono spostare e noi sappiamo che poi lo si fa spesso più per gli altri perché il dato più drammatico è quando qualcuno rinuncia per dei costi a curarsi alla propria salute. Il super ticket da un lato riduce la propensione del cittadino al diritto alla cura e dall'altro lato fa sì che sempre di più in questo ambito si debba rivolgere ai privati. Tra l'altro molte regioni hanno rimodulato il super ticket e quindi noi ne chiediamo l'eliminazione. Pensiamo anche a pazienti cronici che devono fare tutta una serie di esami diagnostici e quindi il costo diventa veramente un costo pesante per le famiglie. Usufruire da parte dei pensionati del diritto alla salute sancito dalla Costituzione purtroppo non lo registriamo perché le liste d'attesa così lunghe e la carenza di servizi sanitari nei territori fanno sì che gli anziani in particolare in alcuni casi o rischiano di non potersi curare perché sono impossibilitati a rivolgersi al privato visto che nel pubblico non trovano i tempi adeguati per farsi curare e soprattutto anche in questo caso, come dicevo prima, la carenza di servizi territoriali, di assistenza territoriali va a incidere sulle famiglie dei non autosufficienti. La pagina Abruzzo sulla città parla di lavoro e di dati dell'occupazione e lavoro in ripresa ma meno che in Italia i dati del Cresa sull'Abruzzo fanno emergere un mercato ancora sbilanciato in favore degli uomini. Tasso di attività del 64,5% inferiore a quello medio nazionale, il tasso di occupazione aumenta di poco più di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, il tasso di disoccupazione diminuisce dello 0,6%. Scendiamo, erosione della costa, mezzo milione per garantire l'avvio della stagione, interventi a Francavilla, Martinsicuro, Pineto, Roseto, Silvi e Casalbordino. Poi il postisma, termine per la presentazione delle schede Aedes solo per chi ha conferito l'incarico, questo in una nota diffusa ieri dal commissario straordinario Paola De Micheli. Andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere la pagina di primo piano. Abruzzo decise le regole dell'estate sulla costa in vigore di vieti e permessi. Proibito accamparsi sulla spiaggia e bloccare i corridoi dei mezzi di salvataggio, i comuni decidono l'accesso ai cani. E qui vedete uno specchietto riassuntivo di cosa si può e non si può fare. E poi nel taglio basso, 9 esperti per l'appalto da 55 milioni, vasche anti esondazione delle pescara, D'Alfonso ha scelto i componenti della commissione di gara. Andiamo avanti nella pagina Abruzzo, Industria 4.0, grandi imprese e Arap verso le fabbriche faro, vertice per approfondire le opportunità di investimento offerte dalle ZES e dal progetto di innovazione digitale Upside di prossima presentazione. Andiamo nella pagina di Pescara adesso. La città verso l'estate, dall'entroterra al mare in treno, sconti per chi sceglie Pescara, Trenitalia, Federalberg e Confcommercio stanno lavorando a un progetto di promozione turistica. Esibendo il biglietto ferroviario si otterranno prezzi di favore negli stabilimenti, oltre a bus e bici gratis. E poi dopo cinque anni è riaccesa la fontana di piazza Le Laudi sul lungomare di Pescara. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. La storia, manca il braccialetto, detenuto resta in carcere. Il giudice concede i domiciliari a un 53enne e imponi di applicare il dispositivo, ma dal 19 marzo lo strumento non è mai arrivato e l'arrestato ha deciso di scioperare, di fare lo sciopero della fame. Restiamo sempre nel capoluogo adriatico, Viale Pindaro, pronta la nuova ciclabile, inaugurata la pista lato mare con cordoli di protezione e attraversamenti colorati, limite di velocità 30 all'ora per le automobili. Mercatino etnico, tempi più lunghi per l'avvio dei lavori nel tunnel, l'intervento è ancora bloccato a due mesi dal via libera del Consiglio Comunale all'opera in via Ferrari, Blasioli. Porteremo il progetto in giunta dopo Pasqua, ma poi si dovrà attendere, scusate, per quanto riguarda la gara d'appalto. Proseguiamo. Ferro da stiro sul materasso, il balcone va in fiamme, allarme in via Milite e Ignoto e poi in via Davalos cede un tratto di strada, nei pressi dell'Aurum chiusa una corsia e ancora i riti della Pasqua, oggi le processioni del Cristo morto e il percorso dei cortei organizzati in città, in centro la partenza è alle ore 19. Nella pagina di Montesilvano, Consiglio Comunale, la tassa sui rifiuti, tari più cara, sconti solo per i ristoratori, via libera, lievi aumenti per famiglie e utenze non domestiche, esenzioni in alcune zone per le nuove attività commerciali. Andiamo nel taglio basso, strade dissestate, petizione dei cittadini, parte una raccolta firme su Facebook per far riparare le buche. Nella pagina della Val Pescara, politici in fuga dai consigli comunali, a dall'anno la maggioranza approfitta di una pausa e non rientra più in aula, a scafo l'opposizione abbandona i lavori. Andiamo sul messaggero per vedere le notizie sulle pagine di Pescara. in apertura, Viale Pindaro, debutta la pista ciclabile, inaugurazione senza festa per l'opera voluta dall'ex assessore Stefano Civitarese, primo tassello della città della conoscenza. Il cambio di passo nelle politiche della viabilità è evidenziato dall'assenza di Giuliano Diodati, ma il sindaco applaude. Un passo avanti verso la bicipolitana che non bilancia lo stato di abbandono della corsia blu di Viale dei Pini. Proseguiamo ancora con il messaggero. Vittima di violenze perde la bimba. Lei, nigeriana, 23enne picchiata da scafisti a Guzzini, aveva partorito a Pescara la piccola di sole 26 settimane. La neonata fu trasportata con un C-130 dell'aeronautica al Gaslini di Genova. Nonostante le cure, purtroppo non ce l'ha fatta. E poi l'operazione del NAS, sequestrata ai 200 tonnellate di mangime per animali. Andiamo ancora avanti. Tari più salata per le famiglie. Va a scapito dei residenti lo sconto del 50% concesso ai ristoratori. Siamo a Montesilvano, a carico dei cittadini mancati introiti dei 600 contribuenti spariti dagli elenchi del Comune negli ultimi 5 anni. Da Francavilla, invece, bilancio e sosta ai privati per 25 anni. Legrane e di Luciani tornato in Comune. Oggi in consiglio è il project financing sui parcheggi a pagamento. Il sindaco ha la conta dei suoi fedelissimi. Passiamo adesso alla pagina di Chieti. Schiavitù nella casa Lager per la suocera e la cognata. Questo è il titolo di apertura. Le donne dovevano vivere in una stanza mangiando solo una minestra al giorno. Offese, calce e pugni a ogni trasgressione. Emesso un decreto di allontanamento. Nel taglio basso, oggi la processione del Cristo morto a Chieti. Luci spente e rivoluzione del traffico. Il corteo si snoderà da Piazza San Giustino per tutte le vie del centro. Proseguiamo nella pagina successiva, quella della provincia. Tassa di soggiorno si paga da giugno. Via Libera del Consiglio Comunale di Lanciano al nuovo balzello che sarà fissato dalla Giunta. Marus Camiscia dice così miglioreremo l'accoglienza. Pubblicato il bando per riasfaltare le strade piene di buche, l'Aula ha confermato anche l'Atari sui livelli dello scorso anno. Per quanto riguarda il lavoro, taico, gli investimenti non si vedono. Proclamato lo stato di agitazione. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul quotidiano Il Centro. Svolta nell'inchiesta, Vaccaro non poteva essere arrestato. La Cassazione annulla l'ordinanza contro l'imprenditore costretto ai domiciliari per 27 giorni. Andiamo nella pagina successiva. Colpo agissi, ladri entrano in casa davanti agli operai. Uno si arrampica sul balcone di un anziano, l'altro fa da palo incuranti dei lavoratori di un cantiere. Il sindaco dice, siamo sbalorditi. Andiamo avanti, andiamo ad aprire adesso la pagina di Teramo. Il PD torna a fare pressing su D'Amico. I dem pronti a chiamare D'Alfonso per spingere il rettore a candidarsi a sindaco in alternative primarie entro la metà di aprile. Per quanto riguarda il centrodestra, azione politica apre la sede con Rudy Di Stefano e Zelli. Nel taglio basso, migranti affidate il servizio da 3 milioni e la somma prevista per la gestione dello Sprar 2017-2019. Andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero. Eccola qui. In apertura, terremoto, cresce la rabbia in agibilità per fare affari. I consumatori denunciano indotte edilizio per trarre benefici in funzione della ricostruzione. Ancora avanti sulla pagina di Teramo. Nel taglio basso, spaccate per Pasqua, sventato il furto di una ruspa. Siamo a Corropoli. Mentre nella pagina della provincia, stalker dal cuore matto, malore in cella, dolore al petto per l'anziano coltivatore, inchiuso per atti persecutori, verso una 47enne straniera e porto abusivo d'armi. Il settantenne Giuliesi è stato trasferito in infermeria. Raccontano i due figli che gli hanno fatto visita nel carcere di Castrogno. Andiamo ancora avanti con le notizie dal Teramano e passiamo alla città. L'economia. Banca Popolare di Bari ha approvato il progetto di bilancio utile di un milione di euro ed indici in crescita, nonostante l'amore di lavoro su Tercas e Caripe. Sempre da Teramo, genitori massacrati di botte, figli a processo, padri e madri anziani picchiati, con pentole e scopi, insultati, minacciati di morte, ripuliti della pensione. Ancora avanti la politica. Nella sede di Rudi si ricompatte il blocco civico all'inaugurazione di azione politica presentati da Almati di Idea, Abruzzo Civico, Fratelli d'Italia e Lega. Per quanto riguarda invece il centro-sinistra, Renzo a protezione di D'Amico, il rettore non è una risorsa del PD ma dell'intera città, così il presidente della provincia. Poi verso l'unità, appello alle primarie, agli autocandidati cavallari, da Alberto e al PD. Per quanto riguarda il mondo dell'emittenza, Teleponte salvata dal fallimento, l'accordo con i creditori sul concordato preventivo verrà sancito in tribunale il prossimo 10 aprile. Ancora l'Anfas Open Day, festa senza barriere, mercoledì a Sant'Atto festeggiano il sessantesimo anniversario della associazione. Andiamo a Martinsicuro ora. Tasse invariate nel bilancio di previsione, amministratori soddisfatti per il lavoro fatto, Elisa Foglia attacca per la mancanza di condivisione. Girava con una targa del Ministero dell'Interno, a Sant'Omero sequestrata una Focus senza assicurazione, con il contrassegno anteriore di una punto governativa. Poi richiesta di scarcerazione bis per i santoleri. Questa mattina i difensori presenteranno l'istanza contro il provvedimento del Tribunale di Teramo per il giallo della pittrice. Padre e figlio sono accusati dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere di Renata Rapposelli. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Ricercato un sospetto terrorista dell'ISIS. L'indagine tocca la Marsica, il 22enne per sei mesi, ha vissuto ad Avezzano, ricoverato anche in un ospedale psichiatrico. Scendiamo nella pagina. Processioni di Pasqua con i piani sicurezza, divieti di sosta ad Avezzano, Tagliacozzo abolisce le fiaccole, assembramenti ridotti a Scurcula. Nel taglio basso invece l'Aquila, ricorso sul voto, oggi finisce la conta, la Prefettura vaglia le ultime schede del Torrione, l'amministrazione Biondi è in bidico. Per il rischio anatrazzoppa. Andiamo a Castelvecchio, su Bequo si farà la processione del Cristo morto, divisioni irrevocabili del padre Massimiliano, che sarà temporaneamente sostituito dall'ex parroco Max Bacile. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila sul messaggero. Eccola qui. Gran Sasso in 300 sugli sci, tra rimpianti e speranza di futuro. Entrate in funzione la nuova seggiovia, turisti romani invisibili o posto stupendo. L'Iris sulle piste, qui solo per ringraziare Denardis. Un primo passo, faremo anche altro. Andiamo avanti. Nella pagina di Avezzano Sulmona, polizia a caccia di un giovane jihadista. Isis, indagini anche in Marsica. Gli agenti dell'antiterrorismo sulle tracce di un extra comunitario per dieci anni in zona. I due avvocati avezzanesi che lo hanno assistito in passato confermano che fu coinvolto in alcuni procedimenti penali. E poi il comune di Avezzano, comune summit, per ricomporre la maggioranza del sindaco De Angelis. Andiamo adesso a vedere l'Abruzzo Sport del messaggero. E così apriamo quest'ampia pagina dedicata allo sport. Pescara continua la via Crucis dopo la sconfitta di ieri con il Brescia. Coulibaly porta in vantaggio il Delfino, poi arrivano i gol di Torregrossa e Caracciolo nella ripresa. Per Epifani, quarta sconfitta in cinque partite. La situazione del tecnico traballa. Playout a soli due punti. Ci sono le dichiarazioni di Coulibaly. Ho segnato, ma volevamo la vittoria. Così a fine gara. Mentre nel taglio basso, Sebastiani, ci devo riflettere, l'allenatore può saltare. Il trainer ci gira tutto male. Alla prima difficoltà crogliamo. Il pareggio sul corner ha deciso la partita. Abbiamo già ascoltato le parole di Epifani. Andiamo a vedere anche lo sport sul centro. Partiamo chiaramente dal Pescara. La caduta libera del Delfino. Il Pescara ribaltato Epifani verso l'addio. Un altro KO non basta il regalo del Brescia per il vantaggio di Coulibaly. La società valuta se richiamare Zeman o scegliere un terzo allenatore. Le ingenuità difensive condannano i biancazzurri. Un punto nelle ultime sei partite. La zona playout è a un passo. Continuiamo con il Pescara. La notte di riflessione. Epifani Amaro. Il problema non sono io. Sebastiani dice qualcosa faremo. Il tecnico rischia l'esonero dopo l'ennesimo passo falso. Abbiamo sfiorato il gol del pareggio. Ce la sto mettendo tutta ma a volte siamo anche sfortunati. Il presidente valuta il secondo cambio di panchina per raddrizzare la situazione. Il ritorno di Zeman o l'ingaggio di uno tra Stellone, De Biasi e Tramezzani. Andiamo ancora avanti con le pagelle dei biancazzurri. Balzano e Coda dietro la lavagna. Serata storta anche per Brugman a centrocampo. Da salvare Valsani e Coulibaly. Gli attaccanti non pungono le altre. L'Empoli non si ferma. Riscatto del Frosinone. Il Parma vince ad Avellino che oggi esonera il tecnico Novellino. Colpo spezia grazie a Gilardino. Qui vedete tutti i risultati della giornata. di Serie B. Proseguiamo invece adesso con le altre categorie. In Serie C il Teramo gioca domani a Gubbio. La difesa di Ferro è collasso del Teramo nella corsa salvezza. Ieri si è giocato in Serie D. Serie D la 29esima giornata. Di Curzio entra e segna. Avezzano inarrestabile. L'attaccante Marsicano in pochi secondi mangia al tappeto. il Campobasso. Partita finita 1-0 che andiamo a vedere nel servizio. La Serie D abbraccia l'ultima sosta della stagione. La Pasqua ferma il campionato e allora la 29esima anticipa nel turno infrasettimanale. Avezzano Campobasso allo Stadio dei Marsi. Si entra nel rush finale. Si gioca per disegnare lo scenario del post 34esima giornata. Resta aperto il discorso playoff. Biancoverdi a caccia di tre punti per blindare il terzo posto. Campobasso tradito da un epilogo di stagione non all'altezza delle aspettative. Non c'è Giampaolo squalificato. Non ci sono neppure Bianciardi, altra vittima del giudice sportivo. Sbardella ancora fermo dall'infortunio rimediato nel match col Francavilla. E Kiko Fanti per lui problemi muscolari. Rispetto al derby con l'Aquila cambia qualcosa nelle scelte di partenza. C'è Kras, esterno di difesa. E Bisegna si accomoda a centro campo accanto a Persia. Al settimo il primo spunto è del brasiliano di casa. Kras in profondità per Dos Santos che guadagna metri e prova a spostarsi sul sinistro. Conclusione sporcata, Riccio senza problemi. Al dodicesimo a fondo Mancino traversone in area Pellecchia diretto in porta. Ancora la retroguardia molisana a metterci una pezza. Al ventunesimo la prima reazione ospite. Palla lunga Pescara e Varsi botta dalla distanza sul fondo. Francavara ha ritmi non altissimi, ne risente lo spettacolo. Per un'azione degna di nota vogliamo al quarantatreesimo. Calcio d'angolo Avezzano. Bisegna dalla bandierina, sfera sul primo palo, Dos Santos sottoporta. Il colpo di testa si perde sopra la traversa. Finisce qua il primo tempo, finale sottotono, squadre a ragionare per 15 minuti. Si riparte a formazioni invariate e l'Avezzano sembrerebbe voler alzare i ritmi. Calcio d'angolo dopo appena 80 secondi. Menna a staccare, palla a incrociare. Di un niente al di là del legno, la destra di Riccio. Al sesso del prete dalla scossa ai suoi. Azione personale, percussione sulla destra. L'esterno si infila tra Deramo e Lombardo e conclude sul primo palo. Lombardi la battezza fuori. Al quarto d'ora Bisegna lancia sul filo Pellecchia. Il giocatore campano col mancino sul primo palo. Riccio coi pugni. Tre minuti dopo Dos Santos fugge dalla linea avversaria. Punta l'area e vede lo specchio. Il mancino è fuori misura. Al diciannovesimo è ancora il brasiliano protagonista. Confusione in area ospite. Dos, su una palla vacante, interviene senza riuscire a deviane in rete. Sul cambio fronte Varsin, pensierisce Lombardi. E sul pezzo il portiere dell'Avezzano. A metà secondo tempo la svolta della gara. Virgilio richiama Dos Santos e butta nella mischia di Curzio. E proprio lui, dopo neanche una manciata di secondi, sblocca la gara. Manovra sviluppata sulla destra e accompagnata dalla squadra Pellecchia. A mille mette in mezzo di precisione. Il neo entrato è al posto giusto, al momento giusto. E gonfia la rete facendo esplodere il Dei Marsi. Cambio anche per Foglia Manzillo. Fuori Gomez, dentro Balestrieri. Venticinquesimo Cerone. Vede Riccio fuori dai pali e prova l'Euro-Gol. La palla di pochissimo sopra lo specchio. Al trentasettesimo, doppio cambio per il campo basso dentro Marzano. Estrianese fuori rispettivamente del Prete e Amabile. Cinque minuti anche per Besana. Può rifiatare Bisegna. Crass torna davanti alla difesa. Tre minuti dopo fuori anche D'Eramo in campo. Marco a Catullo. Si giocheranno cinque minuti di recupero nonostante il ritorno del campo basso. L'Avezzano blinda la solita difesa e porta a casa tre punti che sanno di certezza. Bianco Verdi sempre più leader. Nessuno come loro in questo 2018 per tenuta fisica e mentale. E soprattutto per i numeri infilati nel girone di ritorno. 2018 che non è stato certo positivo per la Vastese che però si riprende. Riscatto Vastese Triss al Fabiano e torna il Sereno. Andiamo a vedere il 3-1 nel servizio. La Vastese torna a vincere. Lo fa battendo 3-1 il Fabiano Cerreto in un match fondamentale per rimanere in zona playoff. Colavitto ritrova Amelio e Leonetti rispetto al match perso contro l'Agnonese. Barando il consueto 4-3-3. Tra l'altro schieramento speculare da parte del Fabiano a caccia disperata di punti per evitare la retrocessione diretta. La Vastese ha un buon approccio al match ma la prima occasione è per gli ospiti. Dagli sviluppi di un angolo Zuppardo prova il colpo di tacco sul primo palo ma viene murato in maniera forse provvidenziale da Tedesco. Dagli sviluppi del successivo corner la Vastese riesce a riconquistare il pallone con Tedesco che arriva fin dentro l'area non trovando però poi la porta. Due minuti più tardi De Feo vorrebbe il calcio di rigore per un presunto tocco di mano di un avversario ma il direttore di gara lascia proseguire. E' ancora Tedesco un minuto più tardi a raccogliere un cross di cane non riuscendo però ad inquadrare la porta. Il gioco si ferma poi per un paio di minuti per gli infortuni di De Chiara e Fumanti con quest'ultimo che lascia il campo in barella e sarà accompagnato in ospedale per accertamenti. Dovranno lasciare il campo entrambi a favore di Casciani e Tafani. La Vastese tira un po' il fiato e poi colpisce alla mezz'ora. Fiore è bravo a raccogliere una corta respinta di Spitoni dopo un tentativo di Tedesco e portare avanti i suoi. Al 39esimo ancora padrone di casa una discesa sulla destra di cane e con Tedesco che sul primo palo non riesce ad impattare bene con il pallone. Nel finale pressing del Fabriano a caccia del pareggio. Zuppardo vede il movimento di Cusimano ma Camerlengo si oppone al diagonale del numero 10 ospite. La ripresa si apre con la pressione del Fabriano che costringe la Vastese nella propria metà campo senza però creare grossi pericoli. L'occasione arriva però prima del quarto d'ora quando il direttore di gara giudica falloso un contatto in area tra Marchionni entrato da qualche minuto e a meglio. Tra la disperazione del difensore e le proteste dei suoi compagni Zuppardo indovina l'angolo con Camerlengo che non arriva a fermare il tiro dal dischetto che riporta in parità agli ospiti. La reazione della Vastese è in un tiro a giro di Fiore su cui Spitoni però si fa trovare pronto. Al ventunesimo l'estremo marchigiano non ha invece un'ottima uscita dagli sviluppi di una punizione con Stivaletta murato quando il gol sembrava ormai cosa fatta. La Vastese rischia grosso al ventesesimo quando Camerlengo ferma in qualche modo un tentativo ravvicinato di Bogio con fischi che si levano dalla curva d'Avalos per cercare di spronare gli Aragonesi. La gara però svolta in meglio per la Vastese di lì a poco. Dagli sviluppi di un angolo De Feo riesce a girare in acrobazia le spalle di Monti riportando avanti gli Aragonesi. Qualche istante dopo Forò rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci al trentaduesimo della ripresa. E Leonetti a mandare i titoli di coda il bomber della Vastese è pronto sul secondo palo a raccogliere un cross dalla destra e firmare il tris per i padroni di casa. Per la formazione di Colavitto matura così un successo che dà anche morale mentre il Fabriano dovrà cercare altrove i punti necessari per salvarsi. Continuiamo con la Serie D. Andiamo a vedere il pareggio del Francavilla che riesce a frenare la capolista Matelica. Partita finita 2-2. Vediamo. Il Francavilla pareggia in rimonta e rallenta la marcia della capolista Matelica che ora sente il fiatto sul collo della Vispesaro che si porta a soli due punti. Una grande ripresa per la squadra di Giervese che tiene in vita le speranze di quinto posto e si conferma squadra da trasferta. 26 punti su 41 sono arrivati lontano dal Valle Anzucca. Dopo la maxi squalifica torna Momo Fofanà subito titolare al fianco di Manegas. Fiore nel trio di difesa. Molenda tutta fascia nel 3-5-2 di Giervese. Squalificato di Cecco ancora out tra gli altri. A mente di Pietrantonio. Nel Matelica c'è Arapia al posto dello squalificato Brentan. In tribuna Gabbianelli sono Tonelli da Polonia e Angelilli a supportare il bomber Magrassi. Primo tempo che scivola via gradevole. Subito una punizione di Palumbo al primo minuto. Poi è il Matelica ad alzare i giri del motore con Angelilli al quinto. E quindi sempre con Angelilli sul cross millimetrico di Malago. Ma all'esterno Matelice se spreca. Al quarto d'ora si sblocca la situazione. Magrassi ruba palla a Romeo e viene atterrato. Per Pelagatti di Livorno calcio di punizione. Con cartellino giallo per il difensore che rischia anche una punizione più severa. La successiva esecuzione dello specialista Losicco è perfetta e il Matelica va in vantaggio. Il Francavilla accusa il colpo per alcuni minuti. Così la squadra di Iervese si rifa viva intorno alla mezz'ora con una bella azione personale di Molenda che dal limite fa partire un fendente che impegna severamente De Maglia. Il Francavilla soffre la pressione matericese e perde diversi palloni in uscita come accade al trentasettesimo quando Malago sorprende Mele e serve Angelilli che sfiora il palo. Passano due minuti. Fargione si supera su Tonelli imbeccato da Losicco. Al quarantaduesimo Fofanà fa sponda per Palumbo che calcia dalla sua zona preferita ma centralmente. La solo di Dappolonia chiude il primo tempo col vantaggio di misura dei padroni di casa. Avvio di ripresa pirotecnico. Al secondo Palumbo da piazzato lambisce il palo alla destra di De Maglia sul capovolgimento di fronte Molenda terra Dappolonia appena dentro l'area. Calcio di rigore che lo stesso Dappolonia trasforma spiazzando Fargione. Sembra chiusa ma al nono Banegas vede e premia il movimento di Fofanà che dimezza prontamente il distacco. Due a uno. Il gol cambia l'inerzia del match. Positivo nel Villa l'inserimento di Procida che propizia la punizione con cui al ventitresimo Banegas scheggia il palo. Il pareggio però è solo rimandato di tre minuti quando la punizione di Palumbo fa fuori tutta la difesa di casa. Milizia rompe e insacca il 2-2 che gela il pubblico di casa. Il Matelica reagisce a sua volta. Davvero clamoroso il palo di Malago da corta distanza. Poi la palla attraversa tutto lo specchio della porta. La capolista spinge a testa bassa per il nuovo vantaggio ma il Villa non sta a guardare. De Maglia disinnesca il sinistro di Palumbo e sul secondo successivo corner Romeo va vicinissimo al clamoroso 2-3. Finale concitato con il Matelica che ha la palla della vittoria nel sesto e ultimo minuto di recupero ma Fargione dice no a Magrassi. Finale 2-2 e ora se il Villa vorrà centrare il quinto posto dovrà migliorare tra le muramiche a cominciare dal prossimo match con la Yesina. Yesina che ha pareggiato 0-0 col Nero Stellati. Mentre per le Terramane di Seredì rimonta il Pineto pari del San Nicolò la squadra di Amaulo va sotto ma vince con l'Agnonese e quella di Montani fa 0-0 con il Monticelli. Andiamo sul messaggero e lasciamo dunque la città. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo. Teramo a Gubbio tutti confermati Varas o Pietrantonio al posto di Sales squalificato per il resto Palladini darà fiducia all'undici che ha battuto in casa la Triestina. Grande Villa a Matelica che riesce a strappare un punto mentre Recanati Amara per l'Aquila l'Aquila fa gioco ma cede a Recanati tra le polemiche. Andiamo a vedere il servizio. Terramara quella marchigiana per l'Aquila dove ha raccolto solo 4 punti in 7 trasferte. sfortunata e anche un po' ingenua la squadra di Battistini che cede l'intera posta alla Recanatese di mister Alessandrini. Il mister della Recanatese conferma in blocco la squadra che ha battuto 4 giorni fa il San Nicolò con Lunardini in regia e Olivieri a sostegno di Pera e Falomi. L'Aquila che arriva a questo appuntamento dopo il pareggio nel derby con l'Avezzano è decisa a conquistare un posto playoff andando oltre i problemi societari. Fischia il signor Campobasso di Formia. Buon inizio della squadra abruzzese al settimo primo squillo aquilano con Boldrini che di destro prova al volo bravo il portiere di casa Piangerelli a deviere in angolo. Al tredicesimo buono lo spunto di Boldrini in area di rigore il suo assist per il Tapine viene deviato in calcio d'angolo. Al diciottesimo risponde la Recanatese buono l'assist di Giaccaglia per Falomi ma il passaggio per Pera viene eletto perfettamente dalla difesa ospite. Al ventunesimo ancora l'Aquila buono lo scambio tra Caffiero e Boucher con quest'ultimo che pennella per la testa di Padovani ma il suo colpo di testa è debole e facile presa del portiere di casa. Al ventinovesimo il gol della Recanatese bello il cross dalla destra di Marchetti in area dove all'appuntamento con il gol arriva il solito Pera per il vantaggio della squadra leopardiana. Al trentaduesimo meriterebbe il miglior sorte il tiro al volo di Ibe ma il suo tiro si perde ancora di poco a lato capovolgimento di fronte e della Recanatese a sfiorare il gol tiro dalla distanza di Marchetti Farroni respinge corto si avventa sulla sfera Falomi ma è super la risposta del numero uno ospite. Al trentaseiesimo ancora Boldrini il più attivo dei suoi chiama la risposta in angolo il bravo portiere di casa. Al quarantaquattresimo arriva il meritato pareggio per la squadra di Battistini Pasticcio in area di rigore della squadra di casa respinta corta del portiere Piangerelli si fionda sulla palla Padovani ma viene steso da Rinaldi nessun dubbio per il signor Campobasso a concedere il rigore e il capitano Boldrini trasforma con un cucchiaio per il pareggio su cui si conclude il primo tempo. La ripresa riparte con entrambe le squadre decise a far bottino pieno ma sotto tono rispetto all'avvio di gara. Doppio cambio per la squadra di Battistini che manda in campo De Iulis Peribe e Di Paolo per l'autore del gol dell'uno a uno Boldrini. Al quattordicesimo ottima la girata in area di Falomi su Crosti Marchetti provvidenziale il tocco di un difensore rosso-blu Al venticinquesimo proteste della squadra Aquilana Sieno si invola sulla fascia sinistra entra in area ma cade a terra forse per una trattenuta da parte di Candolfi Il secondo rigore per l'Aquila Tre minuti più tardi ottima la combinazione tra Falomi e Pera ma il diagonale del bomber di casa viene deviato in angolo ma al quarantesimo arriva il nuovo vantaggio per la squadra di casa schema da calcio di punizione dalla sinistra Marchetti mette in mezzo dove arriva l'appuntamento il solito Pera per il nuovo vantaggio locale per l'attaccante di casa e doppietta personale e diciassettesimo gol da quando è arrivato in terra Leopardiana dopo sette minuti di recupero la reganatese batte per 2-1 l'Aquila e continua così la sua striscia positiva di contro l'Aquila che sicuramente può recriminare per il rigore non concesso nella ripresa ma che tra i mille problemi cercherà di lottare fino alla fine per un posto nei play-off E infatti si parla del rigore non concesso sul titolo del centro l'Aquila dal rigore negato al gol decisivo brutto K.O. ha recanati per quanto riguarda le altre il Pineto ribalta l'Agnonese furia di Di Meo di Rocco ed Esposito firmano il ritorno a successo dei Biancazzurri il tecnico dell'Agnonese viene espulso e poi gara senza squilli per il San Nicolò che porta a casa un punto contro il Monticelli andiamo rapidamente perché siamo già fuori tempo massimo al torneo delle regioni Tris del Friuli sfuma il sogno dell'Abruzzo marchi avanti ai rigori nella Juniores poi i giovanissimi con la sfida Lazio-Sicilia nella pagina successiva l'Abruzzo-Allievi si inchina al Veneto oggi al Bonolis finale con la Toscana e ancora Lombardia ok i rigori premiano la Sicilia e l'altra partita ancora l'ultima notizia l'ex Moreno non si fida a mai sottovalutare Roseto per il basket di A2 e domani gli Sharks in trasferta a Ferrara è davvero tutto io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo gli appuntamenti con l'LTG alle 14 alle 19 e alle 23 mattino 6 torna domani alle ore 8 grazie e buona giornata l'anima notizia l'anima notizia l'anima notizia Grazie a tutti.